Bene, buonasera, benvenuti alla presentazione di questo nuovo romanzo di Carlo Lucarelli, bella abissina, eccolo qua. Dunque io conosco Carlo da un sacco di tempo, ci conosciamo, boh non so, 30 anni, boh non so, comunque. Sì, anch'io non mi ricordo più. Però comunque da tanto tempo, avevamo il colore della barba e dei capelli un po' diversi, insomma, quello del genere. Ma questo non era per fare una roba di nostalgia, ma è semplicemente per dire che Carlo è sulla scena letteraria veramente da tanto tempo. Io l'avevo conosciuto e lui aveva appena pubblicato un libro da teoria, che era questa piccolissima casa editrice, però molto all'avanguardia, che scopriva talenti ad ampissimo raggio, appunto dal neo-noir alla letteratura impegnata. Una casa editrice leggendaria fondata da Paolo Repetti, che è uno dei grandi personaggi dell'editoria italiana, insieme a Severino Cesari, è una grande coppia. Paolo Repetti è il romano intralazzatore, l'affarista, cioè quello che tiene le cose, e Severino invece era il raffinato intellettuale, insomma. Comunque era per dire che Carlo lo conosco da tanto tempo, perché appunto è sulla scena letteraria da tantissimi anni. E da tantissimi anni intreccia vari tipi di linguaggi e anche vari tipi di strutture narrative, una delle quali è il giallo storico, questa forma, il thriller storico, cioè che utilizza i meccanismi tradizionali del giallo, ma ambientati nel passato, e in un periodo particolare che Carlo conosce bene, che è quello del fascismo. Anche Bella Bissina, come il titolo lo richiama, è ambientato in questo periodo. C'è il ritorno di un personaggio, che è marginale diciamo, non è comunque un personaggio che Carlo ha già usato, che è questo commissario marino. La storia, io non voglio spoilerare, anzi non bisogna farlo nei gialli, ma vi dico soltanto come inizia, perché questa è veramente la prima pagina, cioè sono le prime pagine. Siamo nel periodo in cui l'Italia piena di euforia sta per entrare in guerra, piena di un'euforia in parte indotta dal regime, in parte anche spontanea, perché poi il popolo era anche ammagliato dalle capacità oratorie, da questa retorica dell'Italia che doveva spezzare le reni a tutto il mondo, invece finì insomma malissimo. In questa atmosfera molto strana, quasi artificiale di un regime che si sta avviando verso la propria eutanasia, verso il disastro per tutta la nazione, c'è un personaggio, questo commissario marino, un personaggio particolare, malinconico, un personaggio solitario come tutti i grandi eroi e antieroi del noir, in dissidio con se stesso, anche per questa lacerazione, tutti i personaggi del noir hanno queste lacerazioni interiori, lui c'era anche una lacerazione interiori che è dattata dalla situazione, perché fa parte, è un poliziotto, quindi fa parte diciamo dell'organizzazione del regime, però in realtà dentro di sé parteggia per l'antifascismo, non voglio dire niente di più, insomma, quindi c'è questo dissidio, questa lacerazione interiori, proprio il conflitto di coscienza. E a un certo punto c'è questa cosa straordinaria che Carlo ci ha insegnato, ci ha fatto scoprire, la cosa molto bella è che Intreccia appunto costruisce il giallo tradizionale mettendoci dei dettagli storici, anche marginali, che ci fanno entrare in quell'epoca ma in cose strane. Per esempio c'era un particolare corpo della polizia che si muoveva nelle fognature, nella rete fognaria delle città italiane per andare a cercare eventuali ordigni, perché quando Mussolini andava in giro per le città, in visa, eccetera, eccetera, c'era il terrore degli attentati, quindi potevano esserci delle bombe nascoste nelle fognie e c'erano questi poliziotti che andavano appunto a cercare nelle fogni. Durante una missione di questo genere, per capire se c'è un ordigno, spunta il cadavere, il cadavere di una donna, di una piccola donna, all'inizio sembra una bambina, in realtà è una donna affetta da nanismo. E di qua si sviluppa un giallo, no? Cioè un... Come? In Italia, in Italia. In Italia. Parte a Roma e poi va a finire a Cattolica, insomma. Cioè questo, il primo cadavere viene trovato nelle fogne di Roma, vicino alla villa di un personaggio molto importante nella Roma fascista, un imprenditore, uno che si è fatto dal nulla, che però ha ganci potenti con i gerarchi del regime e ha fatto affari nelle colonie, perché siamo nell'Italia, c'è anche il mito delle colonie, poi Bellabissina, ecco loro italia, eccetera, eccetera. Il commissario Marino è una cosa scomoda, no? Come succede sempre nei regimi, nei regimi dittatoriali, no? Quando ci sono dei delitti, ecco, la cronaca nera non è mai tollerata, no? Dalle dittature, non è tollerata dal fascismo, non è tollerata dal comunismo, cioè i delitti non dovevano esistere, no? Perché la dittatura ambisce sempre a costruire il migliore dei mondi possibili, no? Dove il crimine è stato espulso. Quindi è un'indagine scomoda, è una cosa che nessuno vuole, Marino invece vuole andare a fondo, anche se capisce che questo lo porterà forse a scoprire delle verità scomode che non devono essere scoperte. Insomma, non vi racconto di più, ci sono poi degli altri cadaveri di donne, sempre donne con particolari, la particolarità è che sono donne che hanno degli handicap, no? Quindi, come ogni giallo, quando c'è un dettaglio che ritorna, ecco, questo è un indizio, questo ce lo insegna la grammatica fondamentale del giallo. Insomma, e poi l'indagine va avanti, non vi dico come va a finire, non so se si... Basta, finisce così. E se no, non bisogna raccontare i gialli. No, certo. Cioè, bisogna dimostrare di averli letti, perché io l'ho letto con grandissima attenzione, perché è un romanzo affascinante, è un romanzo molto avvincente, che ti porta, appunto, vuoi capire come va a finire, come ogni giallo, ma in più ti ricostruisce l'atmosfera di questa Italia, appunto, sospesa tra l'euforia della guerra e la tragedia, veramente molto affascinante. Lo ricostruisce attraverso vari dettagli, anche con una colonna sonora, c'è una colonna sonora molto attenta. Insomma, partiamo dall'inizio, Carlo. Questo, innanzitutto perché questa tua passione verso l'Italia fascista, dove regolarmente ritorni a ambientare dei gialli? Sì, sì. Beh, io ho scritto il primo romanzo ambientato, più o meno in quel periodo, che era a carta bianca, e l'ho scritto e ho continuato a scrivere, intanto perché studiavo quel periodo in storia contemporanea, e metto subito le mani avanti senza mai finirla. Nel senso, la mia tesi è diventata il primo romanzo, ma non l'ho mai finita, quindi non accampo titoli che non ho. Però mi ha sempre colpito, ne ho studiato, perché è un periodo molto particolare, è un periodo che per un narratore è molto interessante, perché è un periodo esotico. Cioè, tu puoi mettere un paio di tratti, no? E riconosci il periodo, come per l'esotismo. Parliamo dell'Africa, due palme, il caldo, un po' di sabbia, fa Africa questa cosa. Solo che avere questa visione esotica, che molte volte è radicata nel nostro immaginario, non ti fa vedere tutte le contraddizioni che invece ci sono dietro. Per cui sentire una marcettina cantata dal triolescano, il pinguino innamorato, poi c'è un tizio con la camicia nera che fa il saluto romano e si danno tutti del voi, ecco questo è fascismo. No, c'è un sacco di roba dietro, Allora, per uno scrittore è molto bello avere dei periodi storici che ti sembrano così ben delineati, così conosciuti, nei quali dentro puoi scavare un sacco di cose. Soprattutto se sono periodi come quello lì in cui ci sono le radici di tantissime cose che ci sono anche adesso. Non soltanto in quel periodo, naturalmente. Però, voglio dire, tanti meccanismi, no? Che vediamo anche adesso. Soprattutto perché essendo un paese nostro, ricchissimo di storia, ma con poca memoria, diciamo, che non fa quasi mai conti con il passato, il passato resta presente, resta presente sempre. Allora alla fine raccontare di certi meccanismi collocati in un posto che sembra riconoscibile, ma non è quello che sembra, beh, è molto interessante, secondo me. Per quello io ritorno lì. Anche perché appunto l'ho studiato e un pochino lo conosco, dovessi scrivere di altri periodi storici. A me è capitato di scrivere altri romanzi ambientati in Eritrea, nelle colonie italiane, nel 1896, il primo che ho scritto, e lì ho dovuto ovviamente studiare tantissimo, andare là, rivivere quel mondo per riuscire a trovare tutte quelle contraddizioni che ci sono, ripeto, in una cornice che basta dire colonie Eritrea, ah, ho già capito tutto. No, invece no, ci sono un sacco di cose nascoste. Ecco, Carlo Lucarelli, aperta parentesi, appunto, questa famosa tesi, questa laurea non raggiunta, che non è un invito a non finire gli studi, ci sono delle ragazze universitarie. io lo dico, non lo dico mica per quello, anzi, sono un pessimo esempio, è solo un invito, casomai ci fosse un professore che mi vuole dare una laurea d'onore, la prendo volentieri, lo dico tutte le volte, sono per quello. No, dicevo, ecco, al di là del fascismo, eccetera, eccetera, Carlo è riuscito anche a raccontare, a interpretare varie fasi anche dell'Italia contemporanea, cioè, innanzitutto, a fare di Bologna una città noir, no? È vero che tu avevi un padre nobile che era Macchiavelli, che anche lui, Loriano Macchiavelli, eccetera, eccetera, però insomma, Bologna era la città simbolo del partito comunista, Della buona amministrazione, dove gli asili funzionavano, dove erano tutti contenti, amici, insomma, era il paradiso rosso. In realtà, serpeggiavano, a partire dagli anni settanta, serpeggiavano delle contraddizioni fortissime, non solo il disagio giovanile, ma anche proprio il crimino, e tu hai raccontato, hai raccontato questo, appunto, questo lato criminale, nero, di una città apparentemente felice, la Uno Bianca, i serial killer, eccetera, eccetera. Ecco, giusto per dire che Carlo è stato capace, non solo di raccontare l'Italia fascista, il passato, ma anche il presente, con grandissima, con grandissima precisione e sensibilità. Ecco, il, chiusa parentesi, Marino, questo commissario Marino, che è un personaggio, appunto, marginale, no, nella tua produzione, perché, mi sembra che fosse una ventina di anni fa, o forse anche di più, Sì, era del 93, la prima uscita, il commissario Marino, sì, io non faccio i conti, sono quasi 30 anni, tuttora le cifre, ma senza dire niente. Cacca boia, quattro roba. Ecco, come mai lo riprendi, e chi è questo commissario Marino? Allora, l'ho ripreso per lo stesso motivo, no, per cui l'avevo, l'avevo incontrato, cioè l'avevo, e dire creato è brutto, perché sembra di essere chissà chi, no, diciamo incontrato, e perché me l'avevano chiesto, perché me l'hanno chiesto. Io, a me piace molto questa cosa, che a volte ti chiedono delle cose, e tu cominci a pensare su una cosa alla quale magari non avevi mai pensato prima, la commissione, non è semplicemente, no, vendere, no, un po' di parole, significa molte volte che ti indicano una direzione alla quale non avevi mai guardato, poi tu ci guardi e dici, ma davvero, hai ragione, là c'è un'idea, e vado a cercarlo. Era nato perché mi avevano chiesto di scrivere un romanzo per il Giallo Mondadori. Io avevo già scritto un paio di romanzi per Sellerio, avevo scritto Lupo Mannaro per Teoria, stavo sperimentando tante altre cose, un giallo alla Giallo Mondadori, un po' classico, con l'omicidio, il detective che indaga, scopre chi è stato attraverso quegli indizi seminati prima, che poi brillano alla fine, tutte queste cose qui, non l'avevo ancora fatto. La richiesta del Giallo Mondadori era proprio quella, vuoi stare dentro questa famiglia, questa casa che è il Giallo Mondadori molto classico? E io ho detto sì, e mi è venuto in mente, ho cominciato a pensarci, ovviamente, se non mi fosse venuto in mente niente, ovviamente sarebbe morto tutto lì, e mi è venuto in mente di scrivere una storia ambientata sempre nel periodo fascista, ma in un momento storico che non avevo ancora frequentato. avevo scritto cose sulla guerra civile spagnola, avevo scritto robe su appunto la Repubblica di Salò, la fine della guerra, però il periodo del consenso, il 1936-37, gli anni d'oro proprio, la seconda generazione di giovani fascisti, dove sembra che vada tutto bene, quello non l'avevo ancora scritto. Quelle ambientazioni da commedia dei telefoni bianchi, come si diceva una volta, dove ci sono queste donne affascinanti, col turbante, che rispondono al telefono, che ridono, tutti che si danno del voi. Quella roba lì non l'avevo ancora scritta. Loro ho pensato eccola là, chi ci metto qui dentro? Intanto mi piaceva l'idea che fosse anche un romanzo, come dire, con un'ambientazione vacanziera da questo punto di vista, quindi estate, Rimini. Il mio romanzo è ambientato a Rimini d'estate nel 1936 e lì era nato questo contrasto, è un periodo in cui tutti corrono, fanno, se ne approfittano in un regime, i regimi sono fatti apposta quasi per approfittarsene, fanno carriera, basta che sei abbastanza, rampante, è arrampicatore, farai carriera, tutti tranne il povero commissario Marino che sarebbe il più bravo di tutti, ma lui non ce l'ha questa cosa. Allora l'unica volta, ho pensato, questa volta qua crede di avere un'occasione per diventare finalmente come tutti gli altri, per farcela anche lui. E così scrivo, indagine non autorizzata, non vi dico cosa succede ovviamente dentro, però quando chiudo quel libro il mio commissario Marino era lì, gli erano successi un po' di cose, non ce l'aveva fatta, ma questo è normale, posso dirlo, perché se no sono perdenti i nostri personaggi, altrimenti voglio dire non li scriveremo così, non ce l'aveva fatta, era rimasto deluso da alcune cose che erano successe e quindi cominciava a pensare al suo posto nella società, che era un modo di pensare non consenziente ovviamente. Siccome siamo in quel periodo nel regime fascista, cominciava ad essere antifascista, però stava fermo lì. E poi, finito quel libro, mi è venuta in mente un'altra piccola idea, che era quella della squadra fognatura. stavo studiando in quel periodo, per la tesi anche dopo, un libro di Franco Fucci, Le polizie di Mussolini, bellissimo, in cui in una nota, mi pare, trovo questa piccola notazione che dice che la presidenziale, la guardia del corpo di Mussolini, aveva una squadra specializzata nel starsene sotto, nelle fognature, a vedere che nessuno ci avesse messo una bomba. quando passavo, facevo un discorso Mussolini, e mi piaceva questa idea di questo gruppo, provate a pensare, sei la guardia del corpo di Mussolini, cioè fai parte di una squadra d'elite della polizia, però il tuo compito è camminare in mezzo ai liquami, sempre sporco, guardando che nessuno abbia infilato una bomba, e mi piaceva l'idea che questi vedessero qualcosa che poi diventava un'indagine del mio commissario, appunto un corpo. Basta, non avevo niente, a 1993, consegnato il libro, avevo questa cosa qui, e basta dopo. Cioè è passato un sacco di tempo. E poi un altro della Mondadori mi ha detto ci sono una serie di anniversari per il giallo Mondadori, le prime uscite, la prima volta che è stato inventato, eccetera, eccetera. E allora mi ha detto scriviamo, pubblichiamo altri gialli Mondadori, vorremmo che molti degli scrittori di Noire Italiano scrivessero una cosa così. Ci stai? Io ho detto di sì, perché era quella cosa che avevo fatto prima. È un po' come andare in un posto e incontrare una persona. la incontri, ti interessa, è quello che succede con i personaggi, ti incuriosisce, ti fai un sacco di domande, poi è finito, lui se ne va, tu te ne vai, la vita ti porta a chissà dove, quando ritorni in quel posto hai l'occasione di rivederla. Allora quando mi hanno detto vuoi scrivere un altro romanzo con il giallo Mondadori? Sì, ho detto, ho questa roba qua, ho il commissario Marino deluso dal regime e hanno trovato sotto le fognature qualcosa che gli interessa. E così l'ho preso e sono tornato lì. Per questo l'ho scritto. L'occasione, come dire, il tempo per gli scrittori, per i personaggi il tempo è molto, è diverso. Sono passati quattro anni, dal 36 siamo nel 1940, per gli scrittori sono passati più di 30 anni. Va bene, io per 30 anni non ho guardato nella direzione in cui se n'era andato il mio commissario Marino. Dopo sì ed è venuto fuori questo romanzo qua. Sì, che è come dove l'avevi lasciato. Cioè uno lì se non altro aveva il sogno di fare carriera adesso il sogno non ce l'ha più, ho capito che è andato a fine male. Ecco, ma secondo te tu hai detto giustamente sono dei perdenti perché se no te li perdono. Ma secondo me ecco perché nella tradizione del noir ma non solo italiano ma proprio anche dell'art boy insomma gli investigatori sono sempre appunto sono degli anti-eroi sono degli eroi però appunto hanno degli amori infelici anche lui vive con questo fantasma della moglie che se n'è andata sono degli personaggi integerrimi e proprio questo essere avere una moralità forte li porta a essere in contrasto con il mondo poi lui appunto ha questo dissidio interiore con la coscienza perché lui è un antifascista anzi ecco ma perché secondo te i personaggi sono sempre così certo c'è un motivo secondo me l'abbiamo studiato perché in tutti i libri che ho letto io o gli altri che scrivono cose come quelle che scrivo io c'è sempre questo tipo di figure ci siamo sempre chiesti come mai raccontiamo sempre di persone che hanno un sacco di problemi che sono sole che sono piene di contraddizioni uno dei motivi è proprio quello ci piacciono i personaggi che sono pieni di contraddizioni io come dire vengo appassionato mi appassiono a storie che leggo che scrivo di persone che sono ossessionate e contraddittorie perché altrimenti l'ossessione è una cosa che ci interessa e ci piace molto il nostro uomo il nostro personaggio è la persona che cerca noi abbiamo sempre pensato io ho pensato che un romanzo noir di questo genere qua si può raccontare se hai almeno tre personaggi l'uomo che cerca l'uomo che nasconde e il mistero che sarebbe il morto nel giallo di solito noi abbiamo la persona che cerca la persona che cerca è una persona inquieta che cosa cerca di scoprire chi è stato nel giallo classico ma anche soltanto di uscire da questo tunnel di irrazionalità e di disperazione che è il romanzo in cui lo abbiamo appena infilato cerca qualcosa mentre ci sono le altre persone che sono quelli che invece nascondono che sono i cattivi della storia un personaggio così non può non essere inquieto ossessionato altrimenti il tuo romanzo finisce a pagina 1 perché chi glielo fa fare di indagare nonostante abbia tutto contro nonostante rischi la pelle nonostante pensi che questa cosa qui sia comunque un suicidio quindi oltre a questo abbiamo bisogno di un personaggio che sia un personaggio solitario da solo perché se avessimo un personaggio che si muove con dietro tutta la struttura un poliziotto che dietro ha tutta la questura che si muove compatta dietro di lui e tutti sono d'accordo con lui e sta facendo un'indagine per la quale sono tutti d'accordo anche lì il romanzo pagina 1 a riga 1 anche quello noi abbiamo bisogno di un personaggio che va avanti nonostante abbia tutto contro ecco perché i nostri personaggi o mangiano troppo o non mangiano come quelli che ho scritto io non hanno una relazione stabile non sono mai sposati tranne uno nella storia del romanzo giallo che è Megret 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 è l'unico miracolo che riesce ad essere totalmente l'opposto ed è uno dei personaggi più grandi della storia della letteratura se volete ma soprattutto del giallo Megret è uno che riesce a scrivere un romanzo Megret attenti non Simenon che si chiama Le memorie di Megret in cui Megret racconta a Simenon tutto quello che Simenon non ha capito di Megret e del suo mestiere di poliziotto quando un personaggio ti scrive a te un romanzo e dice guardi signor Sim lei non ha capito e ti fa vedere tutto l'opposto beh allora lui esiste Simenon anzi secondo me forse Simenon non è mai esistito e scriveva tutto Giulio Megret però è l'unico che sta con una donna da sempre che mangia perfettamente che ha un gusto nel mangiare così tranquillo e che soprattutto ha tutta la sureté di Parigi dietro di lui perché il commissario Megret arriva fa così e dice voglio vedere quella bottiglia brum tutti dal ministro degli interni gli dicono faccia pure com'è questo miracolo che pure è un personaggio così forte come altri dei nostri che invece hanno un sacco di problemi non lo so però è bello mettere io questo personaggio qui ho cercato di fare una cosa un po' diversa perché a me piace anche questo tipo di contraddizione che era quella del commissario Di Luca se voi prendete il detective nel romanzo giallo è l'eroe per forza perché è quello che ti prende per mano e segui lui fino ad uscire fuori da questa storia angosciante ma se tu prendi il detective e lo metti in un contesto storico particolare diventa il portatore legale della violenza di stato allora il mio commissario Di Luca che è il nostro detective ma è anche un po' della polizia 8 della polizia politica della repubblica sociale beh insomma è un tizio che ci porterà fuori ma sta facendo brutte cose con i tedeschi così come abbiamo visto da un certo punto in poi nella letteratura di genere soprattutto americana con James and Roy personaggi che sono i buoni della situazione ma sono corrotti sono persone tremende sei lì a tenere per personaggi che nella vita insomma vorresti vedere in galera il mio commissario marino volevo che avesse una cosa diversa però e volevo che non fosse ambiguo da un certo punto di vista il commissario Di Luca che è uno dei miei personaggi è ambiguo lo è moltissimo esatto è uno che non sai da che parte ha degli scheletri nell'armadio molto forti e se ti devi dire come ha fatto a costruirseli è ancora più brutto insomma non perché sia cattivo ma perché era distratto che è una cosa tremenda in quegli anni lì essere distratto marino no da quel punto di vista lì è schietto ha preso posizione da quella posizione là è un antifascista militante in giustizia e libertà un clandestino quindi allora volevo che la sua ambiguità sono andato a cercarla da qualche altra parte il suo rapporto con le persone il suo rapporto con le donne il suo rapporto con l'amore tantissime cose che mentre scrivevo me l'hanno fatto comunque un personaggio inquieto e contraddittorio sì e poi tra l'altro anche lì non a caso giustizia e libertà cioè che in Emilia Romagna è anche minoritario perché la resistenza le azioni partigiane ecco nell'Emilia erano i garibaldini erano i rossi quindi è anche marginale in questo senso tant'è che ogni tanto ha dei dissidi con la militanza comunista perché mi dice i comunisti eccetera eccetera sì no dicevi Megret ecco anche la cosa straordinaria Megret arriva a casa si trova la cena fatta si siede in poltrona e legge il giordale cioè è il simbolo della borghesità più 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 realizzata cioè incredibile ecco a proposito di questa roba qua ma sempre aperta parentesi ecco secondo me c'è proprio una differenza in questo nelle relazioni sentimentali sempre disastrate dei personaggi del noir il filo cioè la scrittura maschile e quella femminile perché adesso ci sono tantissime gialliste donne tantissimi protagonisti se noi prendiamo stiamo ragionando ovviamente per schemi molto ampi e le eccezioni ci sono ma se vediamo i personaggi più famosi adesso della letteratura italiana contemporanea gialla al femminile cioè anche loro hanno delle relazioni però ambiscono tutte al matrimonio cioè parlano dei loro fidanzati parlano delle cose del genere cosa che invece i maschi non fanno e qui però entreremmo forse nell'ambito psicoanalitico quindi no come mai i maschi non scrivono le cose le femmine sì entriamo anche una cosa di genere forse anche scomoda eccetera eccetera no altra cosa ecco là c'era Rimini qua invece c'è Cattolica Cattolica che non è la Cattolica di adesso è una Cattolica ancora povera è una Cattolica fatta di pescatori è una Cattolica quasi inesistente forse sulla carta geografica perché hai scelto Cattolica beh anche lì c'erano tanti motivi intanto avevo bisogno di un posto più piccolo Marino è stato nel primo romanzo è uno dei poliziotti del commissariato di Rimini poi si ritrova a Roma alla fine del romanzo poi dopo torna giù per tanti altri motivi avevo bisogno che fosse in un posto un po' più piccolo perché volevo che fosse lui il dirigente all'inizio la mia idea era proprio ti metto lì invece di metterti di solito dove metto i personaggi che sono sempre sotto un po' schiacciati un po' marginali tu sei il capo di te stesso puoi fare quello che vuoi sei rispettato pensano tutti che sei bravo ovviamente essendo un poliziotto nel 1940 per forza pensano tutti che sei fascista sei la cimice attaccata qua sei fai quello che vuoi e quindi avevo bisogno di Cattolica per metterlo in quello che è un po' più piccola di Rimini è sempre la stessa cosa siamo sulla riviera è una riviera che si sta avvicinando alle vacanze siamo un po' prima del giugno del 1940 è quella cosa lì però è più a misura di Marino poi mi sono accorto che non era così perché ovviamente tutte le volte scopri che è diverso il mio commissario Marino è il capo del suo commissariato però la persona più potente è il capo dell'ufficio politico investigativo cioè della politica ovviamente che è quello un po' più voglio dire più immanicato ma soprattutto più pericoloso di lui anche se è il suo vice Cattolica era anche un altro motivo è un posto particolare anche perché Cattolica per noi scrittori di romanzi gialli è stata una delle patrie come il giallo mondadori è una specie di casa del giallo anche di noi che abbiamo scritto cose totalmente diverse che una volta il giallo mondadori mai avrebbe pubblicato Cattolica è da sempre che c'è il Miss Fest che è un festival del giallo dove quasi tutti gli scrittori del mio genere e non solo si sono ritrovati io frequento quel posto dal 1990 quindi da allora vedo faccio ed era una città che conosco abbastanza bene una città di riviera che conosco bene essendoci andato sempre perché scrivere di storie ambientate in certe città nel passato o quelle città le conosci molto bene o se no diventa ancora più difficile come hai detto bene prima Bologna per esempio per scrivere romanzi come abbiamo fatto noi ambientati a Bologna dopo Loriano Macchiavelli che quando scrisse i suoi primi romanzi ambientati a Bologna tutti gli editori gli dicevano è impossibile perché a Bologna non succede niente poi una città piccolina così che vuoi mai le metropoli sono quelle del giallo e Bologna no per noi significava prendere la città e rigirarla da un'altra parte inventarsela se volete noi abbiamo creato una metropoli che è la metropoli emiliano-romagnola la nostra Bologna si chiama Bologna ma non è solo Bologna è quello che diceva Pier Vittorio Tondelli quando parlava dell'Emiliano-Romagna della città-regione lui diceva noi siamo gente che lavora a Bologna dorme a Modena e va a ballare a Rimini ed è la stessa città una città così è Los Angeles ecco noi ci siamo inventati una sorta di Los Angeles dentro cui collocare una cronaca nera che purtroppo ci autorizzava a scrivere le peggio cose perché quando dicevano a Machiavelli e anche a noi ma cosa scrivete di Bologna a Bologna non succede mai niente era già saltata per aria la stazione c'erano stati una serie di omicidi e dopo incontreremo la 1 bianca io sono andato una volta che non c'ero mai andato prima a fare un lavoro con l'associazione Parenti e Vittime del 2 agosto della strage alla stazione vado a suonare in via Bovicampeggi dove c'è la sede e resto così perché sul citofono c'è associazione 2 agosto di Bologna associazione strage della 1 bianca c'è l'associazione di Ustica e ne mancano altri due che sono altri due treni che sono saltati per aria allora una città in cui è successo tutta quella roba lì lasciate stare è una città che si presta ad essere raccontata ma non per raccontare Bologna che ha i problemi in tutte le altre città per raccontare la metà oscura dell'Italia se volete del mondo visto che sono meccanismi simili ecco io volevo fare la stessa cosa ma avevo bisogno di una città che potessi conoscere bene per non perdermici dentro anzi per perdermi ma perdermi dove volevo io e così Cattolica è una città che conoscevo bene che potevo andare a vedere come era cambiata ho trovato un sacco di fotografie come faccio tutte le volte che devo scrivere qualcosa ambientata in un posto nel passato ed erano poesie poesie erano fotografie molto belle molto interessanti che parlavano un carrettino messo in un posto è bello è molto affascinante Cattolica ce l'avevo lì insomma era di casa tra l'altro anche a Bologna c'è stato uno dei grandi delitti anche Glamour era quello della Linovi di questa critica d'arte dove con il mai scoperto in realtà oddio il caso il caso Linovi è particolare perché scoperto in teoria condannato in teoria si però in definitiva l'assassino con una serie di punti interrogativi infiniti enormi enormi è un caso da giallo esattamente c'è proprio il simbolo per dire che adesso pochi lo ricordano però è una roba veramente simbolica perché c'è la cultura c'è il giallo c'è il sesso forse c'è tutto insomma veramente molto molto suggestivo come delitto senti come dice il titolo Bella Bissina eccetera si richiamano le colonie cioè il momento dell'Italia coloniale questo sogno di avere anche per l'Italia uno spazio diciamo extra extra europeo uno dei personaggi chiave del romanzo e questo imprenditore Brandi Marzio che appunto parte da questa poverissima cattolica fa i primi affari con una barca di pescatori eccetera eccetera quando cattolica era ancora si andava a pescare poco più e poi con una serie di scalata insomma anche folgorante diventa molto ricco e diventa molto ricco grazie anche alle colonie ecco tu racconti racconti anche in maniera per quanto ci può stare all'interno di un romanzo il mondo delle colonie ecco che cosa furono le colonie questa grande occasione di ricchezza ma anche di corruzione di sfruttamento eccetera eccetera come il western della frontiera degli Stati Uniti senza sapere assolutamente niente e dovendo studiare per parecchi anni prima di arrivare a cogliere quelle contraddizioni che dicevo per cui da una parte tu pensi alle colonie a occasione di ricchezza esotismo avventura e tutte queste cose quindi in realtà sono state un sacco di altre cose io le ho utilizzate le ho utilizzate in questo romanzo per raccontare due cose che mi interessava raccontare lì al di là della trama del delitto dei personaggi di Marino di tutto quello che volete che erano la corruzione e il razzismo che ci sono da tanto tempo c'erano prima rispetto alle colonie non necessariamente nel periodo fascista ma lì riesci a vederle molto bene perché non c'è nessun bisogno di nascondere niente le colonie sono state un campo di battaglia di ruberie di corruzione per forza porti là un sacco di soldi a me è venuta in mente le prime volte che studiavo questa cosa quando cominci a leggere delle cose appena noi arriviamo per esempio a Massawa che sta sulla costa l'idea è quella di occupare quel posto e poi di fortificarlo e l'idea è quella di fortificarlo utilizzando pietre e legname che trovi sul posto ora le pietre non ci sono perché siamo sulla sabbia è un litorale e il legname se siete mai stati in Eritrea sapete che cos'è sono legnetti di acacia messo così per cui a quel punto sei costretto a far venire il materiale dall'Italia che costa un sacco di soldi vedete occasione di ricchezza sì per chi però per tutti quelli che ovviamente sfruttano questa cosa è dai tempi dell'Italia liberale se volete prima del fascismo che si fa questo che si ruba durante il regime questa cosa può essere fatta senza grossi problemi perché non hai una magistratura non hai una polizia non hai un'opinione pubblica non hai un giornalismo per cui rubi se poi rubi e le colonie sono state una fonte di ruberie di corruzione enorme molte volte ci viene da dire per carità in parte magari potremmo avere ragione siamo andati là abbiamo fatto le strade abbiamo fatto delle cose le abbiamo fatte per noi non per loro naturalmente però le abbiamo fatte però sapete quanto sono costate quelle cose lì e quante persone hanno fatto ricchissime poi nel nostro paese allora a me piaceva analizzare quel meccanismo uno può dire si può fare anche adesso beh certo sì avrei potuto ambientare un romanzo ora vedete se aprite il giornale lo vedete molte volte però portare dei meccanismi nel passato e non un presente dentro il quale ci sei anche te che ancora devi capire devi vedere gli sviluppi può essere più interessante per chi riesce ad analizzarli meglio a vedere poi trovi l'attualità di certi meccanismi però portandoli nel passato è come prendere il canocchiale e girarlo dall'altra parte se le cose stanno più lontane paradossalmente le vedi meglio e a me interessava raccontare quello le colonie erano quello ruberie corruzione e razzismo che è una cosa con la quale noi italiani dobbiamo comunque fare i conti perché è vero una cosa c'è il mito nostro dell'italiano brava gente ed è vero quando gli italiani sono brava gente siamo migliori di chiunque quando siamo cattivi siamo cattivi come gli altri e il razzismo è stato questo per molto tempo a me ha colpito molto sono stati due o tre libri che ho studiato recentemente che mi hanno portato a fare quel tipo di ricerche però se voi cominciate a pensare che in quel periodo lì c'erano voglio dire le forme di razzismo che avevamo noi erano soprattutto rispetto alle colonie la paura era di quello che viene dalla colonia noi siamo abituati a pensare al razzismo degli italiani e farlo partire dal 1938 con le leggi razziali che si occupano soprattutto degli ebrei eccetera eccetera ma noi già da prima avevamo quel problema lì del meticciato facetta nera bella bissina da cui io trago il titolo è una canzone che non era così voglio dire piacevole così accettata all'inizio sì perché voglio dire ti fa come dire propaganda in qualche maniera visto che ci dobbiamo andare a fare la guerra in Africa questo mito dell'Africa come una sorta di paradiso di Eldorado sessuale che è importante no per gli italiani insomma ma subito dopo questo comporta dei pericoli perché che ci facciamo con la bella bissina noi e poi i figli della bella bissina dovevano a finire ma noi poi diciamo questo bella bissina ti porteremo a Roma liberata tutti qua com'è sta storia e allora ecco che c'è una storia bellissima che è la storia di faccetta bianca per dirvi come allora cominciamo sempre ad avere le nostre contraddizioni il regime commissiona ad una serie di autori una sorta di canzone che possa combattere contro faccetta nera perché faccetta nera non la puoi censurare è diventato un tormentone e la musica quando ce l'hai nell'orecchio è inutile non è che ti possono dire di non cantarla e allora salta fuori faccetta bianca faccetta bianca è una canzoncina molto così con una musica molto come dire leggera e le parole sono faccetta bianca amore mio pallida e stanca ti dico addio non c'è gara con faccetta nera bella bissina inutile infatti non se la ricorda nessuno però vedete le contraddizioni c'è una legge che io ho messo lì dentro perché mi ha mi ha colpito tantissimo che una è questa nel 37 seguendo tanti altri decreti si arriva al punto per cui se tu hai rapporti di indole coniugale cioè convivi con una persona che sia un suddito dell'Africa coloniale cioè una persona di colori nera insomma o attenzione è sottolineato questa cosa del nero perché dice con una persona straniera che viene anche da un altro posto purché assimilabile a un suddito coloniale cioè africano voglio dire afroamericano un'americana una caraibica quello che vuoi sei punibile con una pena che vada un anno a cinque anni io avrei peso cinque anni mia moglie eritrea quindi per cui le mie figlie sono metice quindi ma non solo non puoi riconoscere i figli non li puoi mantenere in patria vedete questa è una legge che segue una logica che è una logica razzista però attenzione che si impasta con un'altra legge che fa molto capire quali sono i meccanismi di un certo modo nostro di essere italiani ed è quello che racconto io ripeto poi ci sono la brava gente altra storia che è questo uno di questi soggetti evidentemente ricorre in Cassazione la Cassazione stabilisce nel 1940 che puoi essere condannato se vivi con un rapporto di indole coniugale con una persona per più di 40 giorni perché se è meno di 40 giorni e vabbè si sa come sono fatti gli italiani sei in Africa sono queste quali tette fuori è ovvio se la cambi ogni 40 giorni non c'è problema se invece vai un po' di più 5 anni vedete tutto questo meccanismo qua quanto è interessante da raccontare e io quello ho cercato di fare si tu inventi anche questa questa squadra la squadra la polizia la squadra Talamo questo è una cosa che allora che esistesse una squadra che si chiami squadra Talamo l'ho dovuto inventare io perché mi serviva una parola ogni tanto nei romanzi storici qualche cosa di vero simile ma come dire che magari non è accaduto ce lo devi mettere altrimenti le cose non funzionano non è che gli fai fare a Marino un'indagine col cellulare chiaramente no e neanche ti inventi delle cose che non sono accadute non solo bisogna stare attenti soprattutto a non dare al personaggio una coscienza una consapevolezza che non ci può avere io lo so che succede dopo il 1940 e dove andremo a finire con quella guerra però i miei personaggi no magari qualcuno può avere paura qualcuno è consapevole dice oddio ma siamo pronti a fare una guerra lunga ma tutti gli altri non lo sanno che è la seconda guerra mondiale finirà in quel modo lì quindi allora da quel punto di vista lì non gli devi aggiungere cose però che ci fosse una squadra una sorta di buon costume che quella legge lì ti desse la possibilità di entrare in casa delle persone per vedere con chi stavano a letto quello c'era come c'è stato in un sacco di altri posti nell'America negli Stati Uniti negli Stati del Sud degli Stati Uniti nel Tennessee questo succedeva la polizia entrava e vedeva se è rialetto e qualcuno c'è finito in galera in questo modo qua certo mi viene in mente mentre parlavi appunto l'orrore che c'era appunto l'orrore dell'orrore dei rapporti sessuali che fossero coniugali perché appunto il rapporto sessuale estemporaneo era ammesso perché è una roba anzi esaltava il macismo italiano quindi andavano raggiù il maschio italiano la virilità eccetera eccetera ma mi viene in mente di quanto era eversiva questa scrittrice Mura che questa Mura che tra l'altro poi appunto osteggiata che scrisse questo romanzo di una donna bianca che si innamora di un nero e tra l'altro una donna bianca sposata quindi adultera con un nero una roba fantastica appunto mi rendo conto di quanto fosse eversiva perché adesso noi alla fine ma raccontare queste cose qua nell'Italia fascista insomma di fatti non venne molto voglio aprire un'apparenza parlavamo del Gianno Mondadori cioè Gianno Mondadori non è solo leggenda ma è ciò da cui parte la parola giallo cioè si chiama giallo questo tipo di letteratura poliziesca perché i gialli avevano una copertina gialla ecco che impressione ti fa invece tu esci nel Gianno Mondadori ma il Gianno Mondadori adesso è diventato così no cioè è questo che impressione ti fa ecco tra quegli albi che erano quindicinari non mi sembra che erano appunto gialli con la copertina con il cerchio dentro riconoscibile perché erano sempre cioè cambiavano gli autori ma il disegno era sempre l'immagine era sempre lo stesso la posta di Ellery qui dentro insomma ecco questo giallo qua invece questo nuovo formato che cos'è cioè che impressione ti fa sì sì no le cose sono diverse infatti molto diverse il rapporto che abbiamo avuto molti di noi appunto scrittori di gialli di noir di qualunque cosa adesso abbiamo tante definizioni con i gialli Mondadori era ambiguo almeno anche per me conflittuale conflittuale il giallo Mondadori come hai detto la parola giallo nasce da lì perché a un certo punto la Mondadori comincia a pubblicare queste storie in cui ci sono i delitti i misteri la terza storia è lo strano caso di Dottor Jekyll e Mr. Hyde per dirvi no cosa pubblicava allora non necessariamente solo alcune cose le pubblica in dei libri che hanno la copertina gialla la gente va in libreria o dove si vendono i libri in edicola e comincia a dire mi dà uno di quei libretti gialli mi dà uno di quei gialli i gialli i gialli i giallo ed ecco che da quel momento si chiama giallo se andate in altri paesi e dite che leggete gialli per esempio mi guardano strano ma mi guardano strano non mi ricordo se in Germania o in Inghilterra è la letteratura porno quella gialla quando io ho detto sono uno scrittore di gialli che l'han tradotto hanno detto ah come dire bello ti diverti io parlavo di morti ammazzati invece loro pensavano che io insomma fossi su un altro livello però il giallo Mondadori da un certo punto in poi è diventato due cose particolari per noi contraddittorie uno era questo era diventato molto schematico nel giallo Mondadori si pubblicavano un certo tipo di gialli perché dire giallo voglio dire dare questa etichetta a un certo tipo di letteratura che per me è raccontare certe cose in un certo modo e basta e significa è come dare etichette a tutti altri generi letterari romanzi d'amore romanzi storici se utilizzi un'etichetta che funziona solo in quel momento il giallo Mondadori per un sacco di tempo è stato il giallo classico cioè quello all'agata Cristi cioè un morto arriva un poliziotto un detective indaga e alla fine scopre chi è stato questa cosa qui era diventata molto stretta per tutti noi perché noi non abbiamo mai scritto storie così e non ci interessavano siamo diventati molte volte lettori di letteratura del mistero perché ci piacevano quelle storie ma poi il tempo è passato dai tempi di Agata Cristi è vero mia madre era una grande lettrice di gialli di tanti libri tutti i libri senza fare distinzioni di genere e quando leggeva qualche cosa che le piaceva me lo passava se pensavo fosse ovviamente adatto alla consapevolezza che poteva avere in quell'età poteva essere Agata Cristi o delitto e castigo le diceva bello l'ho letto tieni senza fare distinzioni ed è vero anche che il lettore del giallo Mondadori per esempio era un lettore che si leggeva un romanzo ogni 15 giorni ora come lo chiamate un lettore così un lettore forte non siamo più non siamo così non erano tutti i romanzini di Agata Cristi dentro c'erano i come dire i grandi scrittori della nuova letteratura americana che si occupavano di crimine di metà oscura delle cose magari Hemingway raccontava un'altra storia ma Dashiell Hammett vi raccontava con la stessa capacità una storia della strada e così via allora però è vero che uscire nel giallo Mondadori quando ho cominciato a scrivere io significava entrare in una piccola gabbia in cui ti venivano chieste alcune cose una delle cose che insomma sono stato contento di non essere pubblicato all'inizio nel giallo Mondadori ma da Elvira Sellerio dalla Sellerio che non pubblicava Gialli in quel momento lì però era attenta a questo tipo di racconti come Carta Bianca quello che avevo scritto io in quel periodo lì Teoria è stata una di quelle Sellerio altre case editrici considerate culturalmente importanti ma allo stesso tempo pubblicavano gente come noi è servito per sdoganare in un certo senso una certa concezione in Audi stile libero in Audi stile libero subito dopo certo infatti dopo il giallo Mondadori è arrivato è tornato ed è arrivato dicendo bene belle le storie che scrivete voi che sono tutte diverse dal vecchio giallo le vorremmo anche noi ed è per quello che sono entrato questo adesso è quello se voi leggete le altre storie pubblicate da quella collana dei giallo Mondadori sono Massimo Carrotto per esempio di autori nostri io tanti altri e noi non siamo gli autori del detective che arriva e fa domande noi siamo persone che raccontano certe storie in un certo modo certe storie significa storie inquietanti perché? perché sono vere perché appartengono alla metà oscura quello che volete storie inquietanti senza raccontare tutto subito io se dovessi riassumermi no se quello sono qualunque storia vi racconti mi venisse in mente adesso di raccontare per nel prossimo libro la storia di un uomo che incontra una donna si innamorano a prima vista si sposano stanno felicemente sposati fino a 101 anni hanno un sacco di figli e di nipoti muoiono nello stesso giorno tenendosi per mano che meravigliosa storia d'amore io comincerei comunque con c'è un uomo è sotto un lampione aspetto una donna è così perché noi raccontiamo certe storie in un certo modo questo siamo diventati noi adesso tra l'altro adesso a proposito di colori secondo me il giallo dovrebbe essere chiamato blu perché la grande casa editrice adesso che scopre talenti e che li afferma è Sellerio con la caratteristica forma del libricino con la copertina blu quindi adesso dovremmo chiamarli blu oh sì certamente bisognebbe fare così davvero perché Sellerio mi ricordo che quando ho pubblicato il mio libro chiacchierando con lei lei mi ha detto lo sa perché io pubblico romanzi come il suo cioè i cosiddetti gialli perché letteratura di frontiera lei diceva e infatti mi ha detto quello che esce prima di lei era un autore triestino non mi ricordo più chi era che aveva raccontato una storia secondo lei di frontiera perché raccontava di là poi invece diceva voi invece siete quelli che fate frontiera tra generi letterari e quindi sì Sellerio ha scoperto questa cosa a parte Camilleri cioè Camilleri ma lui appunto lui diciamo che ha debuttato con Sellerio ha fatto delle cose prima ma comunque insomma Sellerio è stata la prima ha fatto il primo ok Sellerio Camilleri lui Manzini Robecchi cioè adesso il giallo è blu Sellerio senti qui nel nel tuo romanzo c'è anche dicevo prima una colonna sonora no? cioè ci sono tu citi Gorni Kramer citi citi anche il jazz e c'è una battuta eh ma c'è il nipote del duce che suona e che è considerata una musica negroide no? quindi insomma ambigua proibita invece però c'è un nipote del duce che effettivamente diventa un famoso jazzista ecco che cos'è questa colonna sonora che tu descrivi dettagliatamente cioè perché questa attenzione alla musica? beh perché è importante secondo me la musica intanto è importante perché c'è c'era e c'è anche adesso io ho cominciato a pensare alla colonna sonora di un libro da quando vi ricordate hanno cominciato le radio libere e abbiamo avuto una colonna sonora costante accendevi la radio e c'era sempre della musica non solo nei programmi pomeridiani della Rai come era una volta ce l'avevi sempre e quindi se vuoi scrivere di una persona dagli anni 70 in poi che sta facendo quello che facciamo tutti i giorni prima o poi capita dentro un pezzo di musica studiando però il passato il periodo fascista eccetera all'inizio studiando la musica soprattutto per quel motivo esotico che vi dicevo prima perché la marcettina fa molto fascismo fa molto anni 30 e quindi va bene però ti accorgi che noi una colonna sonora ce l'abbiamo avuta sempre in continuazione anche quando non c'era la radio in quel modo lì a parte che c'era la radio che trasmetteva ballabili tutti i minuti ma poi c'erano proprio i cantastori i cantanti non so come definirli quelli che se ne andavano per le strade si fermavano lì e cantavano una canzone la gente gli tirava i soldi dalla finestra abbiamo sempre avuto la Romagna e soprattutto Bologna sono state città musicali enormemente io ho scritto un romanzo ambientato negli anni 40 43 due non scritti 43-44 e uno nel 54 e ho ritrovato sempre la musica nel 54 a Bologna per esempio c'è Nilla Pizzi quindi tutta la canzone la musica leggera alla Sanremo contemporaneamente avete il jazz perché il jazz arriva appunto ai tempi negli anni 30 Gorni Kramer appunto il figlio di Mussolini che è un grande jazzista è una cosa che all'inizio magari ci si prova qualcuno ci prova a dire vabbè ma questa è una musica che viene dagli Stati Uniti per carità la fanno soprattutto quelli là ci mancherebbe però è talmente forte che gli cambiano nome lo chiamano swing italiano e va bene traducono che è una cosa divertente viene tradotto tutto da noi vengono tradotti anche i nomi dei cantanti per cui Louis Armstrong diventa Luigi Forte Braccio va bene sentite le stesse musiche una cosa St. Louis Blues diventa le tristezze di St. Luigi però quella musica è quella lì perché non puoi fare a meno di quella musica quindi la musica leggera il jazz e poi da noi dalla nostra parte c'è il liscio che allora si chiamava in un modo diverso pensate quanta musica allora ci stava in più la musica racconta alcune cose e serve per come dire per riassumere bella abissina appunto faccetta nera è una canzone che ci abbiamo un po' nell'orecchio sappiamo qual è il rito sappiamo più o meno le parole a me piaceva perché quando arriva il mio personaggio femminile che è Weini che è una ragazza eritrea subito la identificano come la bella abissina che è una cosa molto esotica infatti questa tutte le volte che si muove o c'è qualcuno che fischia faccetta nera o canticchia faccetta nera è una cosa alla quale lei si rassegna perché in realtà lei non è quello non è quel personaggio che ho cercato di descrivere io con la sua forza perché è una bella abissina nonostante tutti la vedano così è così perché è una giovane ragazza indipendente colta e brillante molto carina anche però tutti la guardano come la bella abissina allora vedi serve quella canzone lì a me per far capire quel tipo di di mentalità per dare come dire un po' di anima a quello che sto raccontando e la musica ho scoperto che è una cosa che serve sempre quando scrivi un romanzo sì ecco uno dei personaggi più affascinanti è sicuramente questa bella abissina sulla quale io ho steso un velo di silenzio perché è un personaggio chiave e bisogna scoprirlo passo passo è fondamentale poi per lo sviluppo dell'indagine è fondamentale per l'equilibrio emotivo del commissario per tante cose insomma ed è appunto uno dei personaggi più più belli e più riusciti c'è anche un omaggio a un certo punto a Carmelo Camilleri Carmelo Camilleri voglio raccontare questa storia perché è bella che è lo zio di Camilleri lo zio il vero zio di Camilleri che fu un commissario davvero nella Milano mi sembra Milano Milano fascista che fu anche lui cioè che fu però coinvolto anche lui insomma voglio che tu raccontassi questa storia c'è anche questo giornalista anche quella è una cosa è una cosa bella è una storia particolare perché molte delle storie che scriviamo derivano dalle storie che abbiamo sentito raccontare e dalle storie che leggiamo che molte volte rimangono lì poi quando scrivi un certo tipo di romanzo quando scrivi una tua storia tutto quello che c'era prima che ti serve ti ritorna in mente oppure hai le orecchie aperte con una specie di radar a captare tutto quello che c'è che può servire lì tre anni dopo tre anni prima non me ne sarei accorto però mi ricordo che avevo sentito raccontare la storia da Luca Crovi che ci aveva scritto sopra un romanzo in stile anche quello lì molto insomma molto 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 retro e su quello che era stato la strage avvenuta alla fiera di Milano nel 1928 che è una cosa di cui io non sapevo niente e quasi nessuno sa perché è una cosa vecchia poco raccontata ed ero andato a vedere nel 1928 salta per aria un lampione nella base di un lampione viene messa una bomba che salta per aria ammazza una decina di persone e ne ferisce un centinaio cioè una bruttissima strage che dovrebbe avvenire al passaggio del re Vittorio Emanuele III che dovrebbe passare di lì in realtà il re è già passato da un'altra parte quindi la strage avviene va bene c'è subito un'indagine provate a vedere com'è che ovviamente la strage colpisce molto colpisce Milano in quel momento soprattutto la strage colpisce Milano teniamo questa prima riga e la gente è molto arrabbiata per cui viene uno stimolo immediato da parte proprio di Mussolini anche trovatemi chi è stato e la polizia comincia a indagare polizia e servizi segreti i primi che sono stati sono stati gli anarchici ma non sono stati loro allora mentre una parte indaga sugli anarchici gli altri indagano su giustizia e libertà gli antifascisti ma anche lì non si riesce a mettere insieme le cose e si va avanti cercando parti terroristi come venivano cose dell'allora di tipo diverso ricercati da uffici diversi che si fanno un po' la guerra tra di loro soprattutto a mettere in crisi tutto è un signore che si chiama Camilleri che è come dicevi lo zio di Camilleri che era un poliziotto che stava indagando per un motivo o per un altro Camilleri a un certo punto fa fallire questo tipo di indagini che punterebbero in una direzione palesemente sbagliata ma che politicamente servirebbe perché parla con la stampa e quindi parlando con la stampa di nascosto la stampa pubblica guarda che stanno indagando su quelli e salta l'indagine e si deve ricominciare da capo una delle ipotesi alla fine non voglio dire vera o no però solo per dirvi il meccanismo è che forse a mettere la bomba è stato un altro gruppo del partito fascista dei fascisti per indirizzare la politica in quel momento lì a Milano da un'altra parte tutto quello che vi ho raccontato si applica così a Piazza Fontana solo per dirvi che i meccanismi sono sempre gli stessi i meccanismi delle indagini a volte sbagliate a volte sbagliate apposta i meccanismi come dire di sputtanamento delle indagini parlo con la stampa è tutto già successo poi alla fine magari scopriamo una sorta di strategia d'attenzione oppure no tutto quello che volete eccetera mi piaceva questa cosa dopo aver letto quel libro quando scrivevo del mio romanzo mi piaceva mettercela dentro mi piaceva metterci un poliziotto che ha fatto questa cosa e il mio commissario Marino ad un certo punto si trova a pensare a cosa ha fatto quel poliziotto là il più il fatto che fosse poi lo zio di Camilleri era perfetto questo romanzo che vive dentro la casa del giallo è giallo Mondadori è cattolica che è del Miss Fest e c'è lo zio di Camilleri più di così non lo so se trovavo un'altra coincidenza ce la mettevo senti un'ultima domanda poi così lasciamo perché credo che siano più o meno le sette e mezza e poi così vogliono chiedere qualche cosa senti tu hai attraversato attraversi tanti tanti linguaggi no cioè dalla narrativa poliziesca quindi dalla scrittura alla radio alla televisione al cinema certo il trait d'union è sempre il delitto è sempre il meccanismo poliziesco ma sono linguaggi che alla fine sono diversi perché è uno storytelling proprio diverso storytelling per usare un nome ecco a quale di questi linguaggi e questi modi di narrare tu ti senti più affine naturalmente anche se anche se li pratichi tutti sì sì a me è capitato di praticarli praticarne tanti perché appunto me lo chiedevano tante volte e ho sempre pensato proviamo a fare questa cosa qui e ho capito tante volte facendo cose diverse che hai ragione i linguaggi molte volte sono diversi è sempre lo stesso il linguaggio del racconto della storia quindi della narrazione che faccio io che è sempre quello racconto certe storie senza dire tutto subito poi è chiaro che farlo in un romanzo significa farlo in un certo modo farlo in un film significa un altro farlo in televisione col repertorio le pause significa un'altra cosa ancora se in un romanzo puoi permetterti di scrivere storie complesse ma non perché chi guarda la tv sia più scemo ma semplicemente perché hai molto più tempo per cui io posso dire quella parola lì e poi vado a capo e apro un capitolo intero a spiegare quella parola in tv non lo posso fare perché un attimo dopo è già cambiato tutto tutto si muove velocemente pure voi che state guardando la televisione in quel momento potete esservi girati un attimo e poi tornate e quella parola lì non è più la stessa cosa e magari vi ha lasciato come dire l'indirizzo sbagliato io mi ricordo un caso in cui raccontavo un caso di cronaca un omicidio e il principale sospettato marito della signora uccisa aveva un amante ma l'amante non c'entrava niente con questa storia qua anche lei ce l'aveva erano separati in casa ognuno si faceva gli affari suoi non c'entra niente per cui io non ho potuto dire avevo un amante perché altrimenti metà di voi avrebbero pensato ha ha e nel momento in cui pensi ha ha suona il telefono ti giri poi ti rigiri e basta per te quella è la storia dell'amante ma ripeto non perché siamo più scemi davanti alla tv ma perché il tempo di fruizione e tutta questa cosa qui è più veloce è diversa brillano altre cose la faccia di una persona brilla più forte della parola che sto dicendo io mentre invece in un romanzo io posso dire avevo un amante pum capitolo 2 l'amante 40 pagine per spiegarvi cosa vuol dire amante in questo caso allora alla fine ne ho provate tante di cose però metti che adesso domani mattina sono in treno sto tornando a casa bing mi viene in mente un'idea meravigliosa per ambientare una storia in questo posto qui con voi tutti a me non viene in mente interno notte oppure non so cosa mi viene in mente capitolo 1 era una notte buia e tempestosa a capo e così via cioè io sono uno scrittore di romanzi prevalentemente gialli se volete ma uno scrittore di romanzi è lì che si muove tutto quello che penso il resto sono belle cose che io faccio poi rubo le cose e le metto nei romanzi molto bene grazie a tutti grazie a tutti